La crisi taglia le vacanze e anche chi non rinuncia alle ferie estive deve fare i conti con il portafoglio. In più si mette anche la difficile situazione dell'Egitto a complicare la vita di chi è in procinto di mettersi in partenza per le meritate ferie sul Mar Rosso. Per tutti comunque la crisi si sente. Meno giorni, mete più vicine, si riscoprono le case di famiglia. Cambia la tipologia di soggiorno ma i comaschi non rinunciano alle ferie. Sembra infatti che la clientela presente nelle varie agenzie di viaggio sia rimasta invariata. Quello che è cambiato più che la rinuncia alle vacanze è la modalità. In periodi più brevi si cerca la stagionalità più economica quando si può, si passa da strutture di un certo costo a strutture di costo minore, però ancora una voglia di vacanza c'è. Sì, una settimana anziché le due, tanti weekend. Secondo una classifica delle mete più richieste l'estero rimane ancora competitivo, Mediterraneo, Baleari, Isole Greche, poi la Bella Italia, Puglia e Sicilia. All'agenzia molti però preferiscono il fai da te esplorando le possibilità offerte da internet ma non è detto che si possa sempre risparmiare. Quello che a noi ha creato difficoltà è che molti rinunciano alla vacanza di un certo impegno, quindi si torna magari alla casa dei nonni in Liguria piuttosto che a quella del paese di origine e quindi questi naturalmente vanno da soli. E come ultima tegola i disordini al Cairo ma pur con qualche preoccupazione tutti partono ugualmente per il Mar Rosso. In effetti al momento tutto è abbastanza tranquillo. Sul Mar Rosso insomma non c'è pericolo. Per adesso tutto è tranquillo e speriamo anche dopo. Grazie a tutti.